Oggi in Palazzo Darnorco per presentare un importante progetto indirizzato ai giovani, un progetto di educazione ambientale. Esatto, si tratta di un progetto che è giunto quest'anno alla sua addirittura quarta edizione, quindi insomma questo ci fa pensare che è proprio grazie al successo di questa iniziativa che siamo anche in questo caso, in questi tre comuni, San Giovanni in Valdarno, Terranova Bracciolini e molte barchi, per attivare un percorso speriamo virtuoso che possa anche protrarsi nel tempo. Ora oggi daremo il via a queste tre settimane di micro raccolta di piccoli apparecchi elettronici, quindi coinvolgendo i bambini in particolare delle quarte e quinte elementari e delle medie, e quindi le loro famiglie ma anche il personale della scuola, per portare quei piccoli apparecchi che spesso giacciono ai nostri cassetti, caricabatterie, un phon che non funziona più, vecchi giocattoli magari a pile, che non sappiamo mai dove buttare. Lo scopo di questo progetto infatti è proprio quello di far conoscere di più questi rifiuti che in realtà sono dei materiali molto importanti, anche preziosi per il contenuto di materiali come argento, come rame, che quindi possono essere recuperati e rivalorizzati, ma anche poi per la loro pericolosità perché ci sono diverse sostanze che possono essere pericolose se non conferite correttamente. I numeri parlano chiaro, siamo ancora indietro sulla raccolta di questi materiali e quindi un progetto come questo, abbiamo visto anche nelle precedenti edizioni, ha molto contribuito a creare più conoscenze e quindi anche far capire alle persone dove vanno correttamente conferiti.